o per sole o per ombra di andrea tavernati portoseguro editore buongiorno sono laura garavaglia presidente della casa della poesia di como e quest'oggi voglio presentarvi appunto il libro la cui immagine avete appena visto che è una storia scritta da andrea tavernati così lui l'ha definita giustamente una storia andrea tavernati è un autore con già all'attivo diversi libri due libri di poesia l'intima essenza una raccolta di haiku pubblicata nel 2013 e tamburi una raccolta di poesie pubblicata nel 2015 ed anche un libro di racconti e niente indietro questa è la sua ultima opera il suo ultimo lavoro e narra del furto di un quadro dipinto da un pittore scozzese un pittore imperialista scozzese naturalmente un personaggio di invenzione il quale ha ritratto i momenti della vittoria di una piccola squadra di calcio del di un paesino della della pianura padana tre studenti si interessano a questo furto vogliono scoprire chi è l'autore o chi sono gli autori del furto e in modo direi del tutto improvvisato tipico dell'entusiasmo che hanno i giovani nel fare le cose ma senza molte competenze investigative si mettono appunto seguendo certi indizi sulle tracce di quelli che presumono possano essere i colpevoli del furto naturalmente la loro incapacità ingenua ed ingenuità li porta a trovarsi spesso anche in situazioni molto inquietanti piuttosto oscure e a scoprire nella per quanto riguarda il mondo dell'arte la realtà del mondo dell'arte dei retroscena inimmaginabili è un libro molto interessante che devo dire a me è piaciuto accattivato ha interessato dalla prima all'ultima pagina perché anzitutto perché probabilmente è collocato in un'epoca significativa per quanto riguarda la storia dell'italia in cui io ero ragazza che ho vissuto proprio anche un po sulle mie spalle cioè la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta periodo in cui appunto ricordiamo la p2 ricordiamo la fine diciamo del terrorismo fortunatamente gli ultimi strascichi del terrorismo ma anche la vittoria d'italia ai mondiali di calcio appunto nel 1982 gli anni ottanta sono stati un po un periodo se vogliamo di passaggio da quello che è stato il ventesimo secolo al ventunesimo secolo anzi l'ultimo decennio che appartenuto totalmente direi al ventesimo secolo ma che aveva già in sé tutti i semi che poi sbocceranno nel nei decenni successivi e soprattutto nel ventunesimo secolo cioè l'era tecnologica che ha cambiato completamente il modo di comunicare il nostro modo di percepire la realtà e tutto sommato anche la nostra vita il libro può essere definito come quel tipo di libri che appartengono alla letteratura ergodica ovvero un tipo di letteratura dove il lettore non si limita passivamente a leggere la trama di una storia una narrazione lineare ma in un certo senso si fa coautore perché la storia richiede proprio anche uno sforzo da parte del lettore di entrare nella trama della storia stessa di entrare in quelle che sono le esperienze vissute dal personaggio o dai personaggi e soprattutto non fermarsi appunto ad una dimensione della realtà così com'è ma a scavare più in fondo ad andare ad un livello direi quasi più ad una dimensione più metafisica un po' quello che avviene per fare un paragone che mi piace fare con quelli che sono i testi poetici Andrea Tavernati è un ottimo scrittore a mio avviso riesce a tenere ferma appunto l'attenzione e a coinvolgere il lettore in tutte le oltre 300 pagine del libro e soprattutto in alcuni capitoli la narrazione si fa molto veloce quindi prevalgono prevale il discorso diretto prevale il dialogo il ritmo diventa incalzante perché così deve essere mentre in altri capitoli il ritmo è molto più disteso soprattutto in quelli dove i personaggi esprimono il loro pensiero e sono quindi una sorta di monologo interiore dove anche il lettore è coinvolto quindi a fare uno sforzo in più per capire qual è il pensiero dei personaggi qual è la loro psicologia ed entrare quasi in una sorta di relazione con essi di dialogo con i personaggi stessi un libro quindi che consiglio sia a giovani che adulti e che si può trovare sia ovviamente presso il sito della casa editrice portoseguro ma anche sui siti tipo mondadoristore dagli altri siti appunto dove vengono venduti libri e oppure anche acquistabile ordinandolo nelle librerie quindi vi lascio vi ricordo o per sole o per ombra che peraltro è un titolo molto bello perché è tratto da una da una poesia da una ballata del canzoniere del petrarca vi lascio quindi con così il consiglio di acquistarlo e di leggerlo e vi saluto per una delle prossime presentazioni di libri grazie